vediamo se riesco a tenere la telecamera ferma ok traballo un po allora ciao a tutti e questo video vi presento un nuovo metodo che estrae quattro numeri alla grossa richiesta in base a tutto quello che mi è stato chiesto stavolta si estraiono quattro numeri su ruota singola per la sorte di ambo naturalmente il livello di sicurezza in questo caso sempre molto alto quindi sono quattro numeri su ruota singola per un periodo di 10 estrazioni può funzionare su qualsiasi ruota quindi vi mostro subito la parte principale la base e poi ognuno di noi comincerà a fare i propri codi cercherò di essere più presente in questo gioco ciao a tutti e adesso vi mostrerò il metodo come funziona il tutto quindi prima di tutto vi faccio vedere il periodo dove ho estratto questo questo sistema questo metodo il periodo esatto quindi va da giovedì 22 dicembre 2016 almeno potete fare delle verifiche in caso qualcuno curioso vuole vuole capire da dove sono stati presi questi 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 numeri quindi ho operato sulla ruota di venezia ma ripeto sono cose prese prese a caso quando quando si fa una ricerca si salta da un sistema temporale e quindi si prendono delle date casuali quindi in questo caso è caduto su venezia in questo periodo quindi adesso vi faccio vedere come funziona il sistema il metodo quindi opera re lotto e questo il sistema base è il primo di almeno tre video le faccio tre perché perché dopo vi devo mostrare l'espansione di questo sistema quindi cancelliamo pure questo ecco come basato naturalmente avrete già visto su altri video che uso spesso il sistema di cadenza incrociata in tre estrazioni quindi 87 e 37 in questo caso quindi trovata la condizione 87 e 37 si deve sommare quindi non sto qua a spiegarvi altro quindi vi devo si prende la prima quella sempre più in alto e la prima la prima estrazione sempre quella in alto e si fa la somma delle in figura cioè della cifra in questo caso 87 diventa 8 più 7 quindi 8 più 7 fa 15 e poi si fa il vertibile del 15 quindi 51 mentre il 13 che numero il sotopo in terza quindi il 13 diventa il numero chiave che ci serve per fare per fare i conti quindi il 13 si fa lo stesso identico metodo 1 più 3 1 più 3 4 e questo diventa il 4 diventa il numero chiave quindi trovato anche il numero chiave quindi abbiamo i due numeri che ci servono e il numero chiave il numero chiave va sommato a quelli ai due numeri che abbiamo già estratto prima quindi il 15 più 4 19 e poi il 5 che diventa il terzo numero da giocare poi il 51 più 4 con numero sempre chiave e diventa 55 quindi i numeri in gioco sono 4 il 15 il 51 il 19 e il 55 e ho preso qua degli esempi come si vede il 19 55 1 2 3 4 al quinto colpo è uscito fuori subito l'ambo poi adesso vi faccio vedere altri esempi dove vedete questi qua il rosso penso che si veda ho ingrandito perché è stata fatta anche questa di richiesta quindi dove vedete il rosso ci sono le condizioni non è che non ci sono ci sono naturalmente io vi sto facendo vedere il metodo base mentre qui ci sarà un altro l'espansione di questo sistema di tutto questo metodo vi faccio vedere quello base perché dopo non voglio anticipare vi faccio vedere alla fine nell'esempio il perché sono queste condizioni sono solo smarcati in rosso quindi andiamo sempre avanti quindi sempre con l'altro un altro esempio è quindi 84 e 34 e questa volta vedete che è in contrapposizione all'altro quindi è alla prima estrazione 84 in quinta in quinta posizione e il 34 che è sempre incrociato sempre in considerazione tre estrazioni quindi lo stesso alla stessa cosa di prima 8 più 4 quindi si fa la somma in figura 8 più 4 12 è il vertibile del 12 che è il 21 quindi il numero chiave in questo caso come già detto prima si prende in considerazione l'isotopo del numero della prima estrazione quindi 40 si fa la somma e diventa un numero chiave 4 più 0 4 figura chiave e si fa la stessa cosa quindi 12 più il numero chiave 4 16 il 21 che è il vertibile più 4 più il numero chiave 25 in questo caso vabbè è stato non è sempre così naturalmente quindi è stato che in questo caso c'è stato un terno quindi 12 21 16 25 1 2 3 4 5 al sesto colpo è uscito un terno è naturalmente terno da tre ambi come sappiamo poi altro caso uguale a prima sempre 0 6 infatti prendo degli esempi più diversificati con lo 0 quindi il numeretto 0 6 però non cambia niente perché diventa il vertibile del 6 e 60 quindi il numero chiave 41 e quindi il 5 4 più 1 5 numero chiave stesso identico sistema 6 più 5 11 il terzo numero è 60 più 5 è 65 in questo caso anche qua abbiamo avuto un ambo sempre 1 2 3 4 5 in quinta posizione quindi 4 numeri su ruota fessa e qua vi anticipo quello che vi stavo dicendo prima quando vi parlavo dell'espansione di questo metodo ma ci vorranno altri video perché dopo diventa troppo lungo quindi seguite anche i prossimi video per l'espansione di questo metodo l'espansione vuol dire che comunque anche in questo caso si può fare lo stesso identico identica cosa in orizzontale praticamente in cambio di fare il metodo isotopo cioè da in verticale prendiamo l'esempio del 36 col 50 quindi in orizzontale nella stessa estrazione stessa estrazione vedete che è uguale quindi si fa il 9 e il vertibile 90 in questo caso abbiamo preso in esempio il 36 quindi 50 che è il numero chiave 5 la stessa identica cosa quindi 5 perché il 90 più 5 fa fuori 90 naturalmente 5 e il 9 più 5 è 14 quindi la stessa identica cosa abbiamo 1 2 3 4 in quinta posizione in quinta abbiamo anche qua un altro ambo ecco non voglio prolungarmi molto farò degli altri video per l'espansione di questo metodo ma questo metodo più o meno come avevo anticipato è solo di base così come è da quasi più del 50% diamo delle percentuali che è giusto darle e con l'espansione quindi 4 numeri giocati a sé poi altri 4 numeri giocati a sé come in questo caso in orizzontale danno una percentuale molto molto alta quindi non vi anticipo niente e guardate i prossimi video e con questo è tutto vi saluto al prossimo video ciao ciao